Ciao ragazzi, qui il Magister, sono qui per presentarvi i nuovi gusti di level up disponibili fino all'esaurimento scorte, quindi attenzione ragazzi, andiamo a vedere. Bam! Ed eccoli qua, primo Game on the Beach. Avete mai pensato di giocare davanti a miliardi di persone in spiaggia, magari vestiti mezzi nudi, se volete fare la streamer slash lo streamer? Questo è il gusto che fa per voi ragazzi, per attirare più persone possibili, mirtillo, frutto della passione e arancia, un mix che vi farà saltare in aria le papille gustative. Bam! Secondo gusto, swimming pool. Avete mai sognato di giocare davanti a milioni di persone in bordo piscina? Magari fare lo streamer la streamer? Magari no ragazzi, ma avete mai sognato di giocare a bordo piscina? Questo è quello che fa per voi ragazzi, ciliegie, ananas, blu carassau, dobrasia, bam! Rinfrescatevi anche voi ragazzi, con questo gusto. E infine ragazzi, pignacolada, avete mai sognato di giocare davanti a milioni di persone con la level up in una mano, una pigna in un'altra mano? E il mouse o il joystick a vostra discrezione, dove vi pare? E pronti a stompare gli avversari? Pignacolada è il gusto che fa per voi ragazzi, ananas e cocco. Questo gusto vi delizierà, vi avvolgerà ragazzi con la sua dolcezza. Mi raccomando ragazzi, fate la vostra scelta, eccoli qua. Ed ecco il gusto scelto dal magista ragazzi, swimming pool. Un gusto che ti aumenterà riflessi, concentrazioni e viewers. Grazie al buff bordo piscina del 90%. Molto bene ragazzi, andiamo a devastare la landa. C'è l'arcivescolo di Costantinopoli, se volesse arcivesco scostantinopolizzare, vi arcivesco vo costantinopolizzereste voi per arcivesco vo scontantinopolizzare lui? Ho sbagliato tutto il scommetto, giusto? E' l'arco. Vaffa culo Alecato. Vaffa culo Alecato. Non so voi ragazzi. Ma mi sento benissimo. Mi sento benissimo. Mi sento benissimo. Mi sento benissimo. Martina gli ho ammazzato il team due volte, dico solo questo. Aime. Non andai rimani a pisciare, concludi. L, 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 Paolone. No? Martina! Martina! Stop. Martina. Martina. Martina Ups Ehm Come è andata Martina? Ehm Ma male Eccolo Il magister non perde mai Che sia chiaro Dai Kindred vai a trollare da qualche parte Non sfidarmi Quanto leva sto imbecille No ragazzi abbiamo un problema Abbiamo un problema grave Abbiamo un problema grave ragazzi Abbiamo un problema gravissimo Abbiamo un problema gravissimo Ragazzi il game lo perdiamo A quanto pare hanno cambeccato il game Dovevo capire che stavo facendo 1v9 E quel minuto in cui stanno andando a pisciare È stato fatale alla fine del game Ma che scherziamo? Miracolo in chat Miracolo in chat Stoppalo 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 But guys Guys Un secondo ragazzi Dovevo dire Guys But guys But Did you escape 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 the zoo somewhere Or are you real persons Because I can't believe For real Cioè non sono umani questi qua ragazzi Vedete che le parole servono Basta Ma vedete che le parole servono Possiamo anche a finire il game qua Ma sei flammantossico Succhiatemi il cazzo mostri Ezreal rinvigorito Rinvigorito delle parole del magister Andiamo mid Dicami il cazzo Zix Ok Listen Listen to me We bait Nash UTP mid to end Ma non adesso Mostro Ma non adesso Le voglio anch'io Se sei forte sali Ecco Chi l'ha messo sta roba Ragazzi Chi l'ha messo sta roba Io ve lo giuro Se io che l'ultima cosa Che voglio sentire L'ultima cosa Che voglio sentire Dopo aver fatto Uno v9 È se sei forte sali Ve lo giuro L'ultima cosa Che voglio sentire Dopo aver vinto Tre lane Dopo aver slovollato Dopo aver perso il game Contro una gianna Player di merda Schifosa Che non ha fatto un cazzo È sentirmi dire È sentirmi dire da un Da l'apo Sentirmi dire da l'apo Se sei forte sali Un shockwave Altra definenza Vog Beh No mia L'avevo appena smarfata Meglio ho fatto una roba Che se la ricorda tutta la vita Cazzi ripeto Il matchup funziona così Scagliamo free Assolutamente sì Cos'era sto rumore Di merda Che ho appena sentito Cos'era sta merda Che ho appena sentito Nelle mie Nelle mie cuffie Martina cos'era Dimmi che Woody non ha fatto nulla Per favore Ti prego Ho già detto Che devo arrivare a 12 Signorina Evelyn Un rumore di merda Bene 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 Tornate ragazzi Ho dovuto checkarla Un attimo Molto Mi sembra che tolgo il timer La tona Sfera leva Bam Ragazzi Molto 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 bene Quale champion Quale champion Uscirà dal magister What champ Do you want to see Un champion aggressivo Pronto a fare 1v9 Ready to stamp Sfera cosa vuoi vedere Pike Voi vedere Brandarieto Brasee Non ho mai detto Una stranzata in vita mia Ciao ammazzami Bravo Sto qua firmo a recollare Non sono in grado Manco di morire Ammazzami Coglione Non posso mai ottenere Quello che voglio Vedete che è Tutto contro di me Non è palese Godo Godo in chat Godo in the fucking chat Godo in the fucking chat E tutto ru Tutto ru Staccato il braccio Mi è caduto in testa Vabbè Robin Hood Ragazzi sto sfondando tutto Sto sfondando tutto Sto sfondando tutto Sto sfondando tutto Dimmi che si può avvitare Ma che cazzo stai a di Ma che cazzo stai a di Ma come si fa a rompere un cazzo di braccio Bene Ruffata Cracolo in the chat Stila Va bene Ci abbiamo Robin Hood Contro Vai Gianna 6-2-16 Player of the game MVP 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 Oh vediamo Faccio la Ludo Ragazzi andiamo a P Cleariamo Sappiamo come funziona Lucian Lucian in lane Deve andare 3-0 E' inutile tutto il game Saluta saluta Seraphine saluta Saluta Seraphine Hai qualcosa da dire Ti smuto la voce Vai Di qualcosa Se sei forte sali Martina mi togli Se sei forte sali Dai Redin Per favore Perché non arrivo a fine giornata Mi tolgo pure gli scudini Perla del rinvigorimento Il signor Xen Allora Quasi non è targettabile Giusto? No 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 Non credo Non ha capito Non ha capito Arrivare la wave però Ma è lì Ce l'ho Magister Sì sì Mi ha ricollato alle spalle Mentre stavo guardando La wave del coso della torre Sì sì Ce l'ho Magister Ok ok Si fa Si fa Si fa Si fa Si fa Maestro calma E' impossibile perderla Grazie mille Valentino E perché sei sbannato Perché sei sbannato Perché sei sbannato Ti banno sette volte al giorno Chi cazzo è la talpa? Chat Chi è la talpa tra i miei moderatori? Chi cazzo è? Ditemelo voi che non ho ancora capito Chi è il traditore? Io faccio un engage a Dokken No ve lo giuro A Dokken Bene Direi che ha funzionato La Dokken ha le stelle once again Poi l'ho buttato dall'altra parte Bene 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 Vieni 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 per cliccare Ma sai che roba Mamma mia Pfff Mero ogni slugro Mai più Mero ogni slugro Mai più Oito Trovo Mai più Sto jam di merda Ma vota di sì Istantaneamente Oito Trovo Get me out Get me out Get me out Instantly Non credo se è l'idea giusta Vediamo se arriva qualche codardo da qua Uno Yasuo Un qualcosa Qua Cazzo Eh qua è già passato Ti spiace Yasuo Sai il detto Non puoi fottere il magister himself Giusto? Ma che cammo L'ho passato attraverso Ma puoi do trovo Dai Eeeh Dai poi Puoi do trovo Uiiiiiii No Fammi non la stittare Ooooooooh Baby La word Q del magister Non delude mai Da insegnare nei libri di scuola Potrebbe risultare un hint Ooooooh Lo so F*** La Qua Lacrime in the chat ho faccato tutto oiidocro 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 cent'ora di scrivania no no iscriviti al canale